un caro saluto a tutti voi da alessandro manfridi dagli amici della scuola di italiano e le due domi mamato e dagli amici di silvestro montanaro vogliamo condividere insieme la lettura di questo articolo sull'avvenire che riporta in esclusivo la lettera che ha voluto scrivere sammy basso e che potesse essere letta per il suo funerale renata potresti leggere iniziare a leggere per favore esclusivo chiedono la vita la lettera scritta da sammy basso per il suo funerale venerdì 11 ottobre 2024 pubblichiamo integramente il testamento che i giovani ricercatori veneto affetto dal progeria morto domenica scorsa ha lasciato i suoi cari perché fosse letto durante l'eseguio oggi vai vai continua oggi a te ok sarà preparato sammy basso al giorno della sua morte che è arrivato inaspettatamente domenica scorsa in un ristorante di asolo durante i festeggiamenti per il matrimonio di una coppia dei suoi amici il giovane ricercatore affetto dalla nascita da una malattia rara chiamata progeria che causa un invecchiamento precoce e consuma il corpo di chi ne soffre era diventato famoso oltre per il suo impegno internazionale in campo scientifico nell'istudio della sua patologia per averne parlato pubblicamente sempre col sorriso e con ironia. In occasione dei suoi funerali, celebrati oggi nella Tezze sul Bretta, dove è cresciuto, pubblichiamo integramente la lettera testamento che Sami ha scritto oppositamente per il giorno del suo funerale e ha fatto avere i suoi genitori dopo la sua morte. Il testo, che è un nino alla vita e un'estraordinaria testemunianza di fede, è stato letto durante l'omeria dal Vescovo di Vicenza Giuliano Brugnotto. Sorgevita, vuoi leggere? Aspetta, non si sente bene il tuo microfono. Suorroda, vuoi provare tu? Vediamo il tuo microfono. Devi accendere però. Devi accendere il microfono. Sì, sì. Così. Qua così? No, è spento. Ok. Se state leggendo, va bene così? Sì, dai, leggi, leggi. Se state leggendo, questo scritto, allora, non sono più tra... Va bene così? Va bene, dai, dai. Sì, dai, il mondo dei vivi. Per lo meno, non è il mondo dei vivi, per come lo conosciamo. Scrivo questa lettera, perché se c'è una cosa che mi ha sempre angosciato, sono i funerali... Scusa, non si sente bene il tuo microfono. Maria, puoi continuare tu, per favore? Maria Embrea? Scusami. Non che ci fosse qualcosa di male nei funerali, dare l'ultimo saluto ai propri cari è una tra le cose più umane e più poetiche in assoluto. Tuttavia, ogni volta che pensavo a come sarebbe stato il mio funerale, ci sono sempre state due cose che non sopportavo. Il non poter esserci e dire le ultime cose. E il fatto di non poter consolare chi mi è caro. Oltre al fatto di non poter partecipare, ma questo è un altro discorso. E perciò, ecco, che ho deciso di scrivere le mie ultime parole e ringrazio chiunque le stia leggendo. Non voglio lasciarvi altro che quello che ho vissuto e ho visto che si tratta dell'ultima volta che ho la possibilità di dire la mia. Dirò solo l'essenziale senza cose superflu o altro. Voglio che sappiate innanzitutto che ho vissuto la mia vita felicemente, senza eccezioni, e l'ho vissuta da semplice uomo, con i momenti di gioia e i momenti difficili, con la voglia di fare bene, riuscendoci a volte e a volte falendo miseramente. Fin da bambino, come ben sapete, la progeria ha segnato profondamente la mia vita. Sebbene non fosse che una parte piccolissima di quello che sono, non posso negare che ha influenzato molto la mia vita quotidiana e non ultime le mie scelte. Non so il perché e il come me ne andrò da questo mondo. Sicuramente in molti diranno che ho perso la mia battaglia contro la malattia. Non ascoltate, non c'era mai stata nessuna battaglia da combattere. C'è solo stata una vita da abbracciare per come era, con le sue difficoltà, ma pur sempre splendida, pur sempre fantastica. Né premio né condanna, semplicemente un dono che mi è stato dato da Dio. Ho cercato di vivere più pienamente possibile, tuttavia ho fatto i miei sbali come una persona, come ogni pecatore. Sognavo di diventare una persona di cui si parlasse nei libri di scuola, una persona che fosse degna di essere ricordata ai posteri, una persona che, come i grandi del passato, quando la si nomina, lo si fa con reverenza. Non nego che, sebbene la mia intenzione era di essere un grande della storia per avere fatto del bene, una parte di questo desiderio era anche dovuto ad egoismo, l'egoismo di chi semplicemente vuole sentirsi di più degli altri. Ho lottato con ogni mia forza questo malsano desiderio, sapendo bene che Dio non ama chi fa le cose per sé, ma nonostante ciò non sempre ci sono riuscito. Mi rendo conto ora, mentre scrivo questa lettera, immaginando come sarà il mio ultimo momento nella terra, che è il più stupido desiderio che si possa avere. La gloria personale, la grandezza, la fama, altro non sono che una cosa passeggera. L'amore che si crea nella vita è invece eterno, perché Dio solo è eterno e l'amore ci viene da Dio. Se c'è una cosa di cui non mi sono mai pentito, è quella di avere amato tante persone nella mia vita, e tanto. È purtroppo poco. Chi mi conosce sa bene che non sono un tipo a cui piaccia dare consigli, ma questa è la mia ultima occasione. Perciò ve ne prego, amici miei, amate chi vi sta attorno. Non dimenticatevi che i nostri compagni di viaggio non sono mai il mezzo, mai il fine. Il mondo è buono se sappiamo dove guardare. In molte cose, come vi ho già detto, sbagliavo. Per buona parte della mia vita ho pensato che non ci fossero eventi totalmente positivi o totalmente negativi e dipense da noi vederne i lati belli o i lati oscuri. Certo, è una buona filosofia di vita, ma non è tutto. Un evento può essere negativo ed esserlo totalmente. Quello che spetta a noi non è nel trovarci qualcosa di positivo quanto piuttosto di agire sulla retta via sopportando e per amore degli altri trasformare un evento negativo in uno positivo. Non si tratta di trovare i lati positivi quanto piuttosto di crearli ed è questa, a mio parere, la facoltà più importante che ci è stata data da Dio, la facoltà che più di tutti ci rende umani. Voglio farvi sapere che voglio bene a tutti voi e che è stato un piacere compiere la strada della mia vita al vostro fianco. Non vi darò di non essere tristi, ma non siatelo troppo. Come ad ogni morte, ci sarà qualcuno tra i miei cari che piangerà per me, qualcuno che rimarrà incredulo, qualcuno che invece, magari senza sapere perché, avrà voglia di andare fuori con gli amici, stare insieme, ridere e scherzare, come se nulla fosse successo. Voglio esservi accanto in questo e farvi sapere che è normale. Per chi piangerà, sapete che è normale essere tristi. Per chi vorrà fare la festa, sappiate che è normale far festa. Piangete e festeggiate. Fatelo anche in onore mio. Se vorrete ricordarmi, invece, non sprecate troppo tempo in rituali vari. Pregate, certo, ma prendete anche dei bicchieri, brindate alla mia e alla vostra salute e siatele allegri. Ho sempre amato stare in compagnia e perciò è così vorrei essere ricordato. Probabilmente, però, ci vorrà del tempo e se voglio veramente consolare e partire da questo mondo, in modo da non farvi stare male, non posso semplicemente dirvi che il tempo curerà ogni ferita. Anche perché non è vero. Perciò vi voglio parlare schiettamente del passo che io ho già compiuto e che tutti devono prima o poi compiere, la morte. Anche a solo dirne il nome, a volte la pelle rabbrivisce. Eppure è una cosa naturale, la cosa più naturale al mondo. Se vogliamo usare un paradosso, la morte è la cosa più naturale della vita. Eppure ci fa paura. È normale, non c'è niente di male. Anche Gesù ha avuto paura. È la paura dell'ignoto perché non possiamo dire di averne avuto esperienza in passato. pensiamo però alla morte in modo positivo. Se lei non ci fosse, probabilmente non concluderemo niente nella nostra vita. Perché tanto c'è sempre un domani. La morte invece ci fa sapere che non c'è sempre un domani, che se vogliamo fare qualcosa, il momento giusto è ora. Per un cristiano però la morte è anche altro. Da quando Gesù è morto sulla croce, come sacrificio per tutti i nostri peccati, la morte è l'unico modo per vivere realmente. È l'unico modo per tornare finalmente alla casa del Padre. È l'unico modo per vedere finalmente il suo volto. e da cristiano ho affrontato la morte. Non volevo morire, non ero pronto per morire, ma ero preparato. L'unica cosa che mi darà malinconia è non poter esserci per vedere il mondo che cambia e che va avanti. Per il resto però, spero di essere stato in grado nell'ultimo mio momento di vedere la morte come la vedeva San Francesco, le cui parole mi hanno accompagnato tutta la vita. Spero di essere riuscito anche io ad accogliere la morte come sorella morte, dalla quale nessun vivente può scapare. Se in vita sono stato degno, se avrò portato la mia croce così come mi era stato chiesto di fare, ora sono dal Creatore. Ora sono dal Dio mio, dal Dio dei miei padri, nella sua casa indistruttibile. Lui, il nostro Dio, l'unico vero Dio, è la causa prima e il fine di ogni cosa. Davanti alla morte, nulla ha più senso se non Lui. Perciò, sebbene non c'è bisogno di dirlo, poiché Lui sa tutto, come ho ringraziato voi, voglio ringraziare anche Lui. Devo tutta la mia vita a Dio, ogni cosa bella. La fede mi ha accompagnato e non sarei quello che sono senza la mia fede. Lui ha cambiato la mia vita, l'ha raccolta. Ne ha fatto qualcosa di straordinario e lo ha fatto nella semplicità della mia vita quotidiana. Non stancatevi mai, fratelli miei. Ci serve Dio e di comportarvi di servire Dio e di comportarvi secondo i Suoi comandamenti, poiché nulla ha senso senza di Lui e perché ogni nostra azione verrà giudicata e decreterà chi continuerà a vivere in eterno e chi invece dovrà morire. Non sono di certo stato il più buono dei cristiani, sono stato anzi certamente un pecatore, ma ormai poco conta. Poi lo che conta è che ho provato a fare del mio meglio e lo rifarei. Non stancatevi mai, fratelli miei, di portare la croce che Dio ha assegnato ad ognuno e non abbiate paura di farvi aiutare nel portarla come Gesù è stato aiutato da Giuseppe di Arimatea. E non rinunciate mai ad un rapporto pieno e confidenziale con Dio. Accettate di buon grado la sua volontà. Poiché è nostro dovere, ma non siate nemmeno passivi e fate sentire forte la vostra voce, fate conoscere a Dio la vostra volontà, così come fece Giacobbe che per il suo essersi dimostrato forte fu chiamato Israele, colui che lotta con Dio. Di sicuro Dio che è madre e padre che nella persona di Gesù ha provato ogni umana debolezza è che nello Spirito Santo vive sempre in noi, che siamo il suo Tempio, apprezzerà i vostri sforzi e li terrà nel suo cuore. Ora vi lascio, come vi ho detto, non amo i funerali quando diventano troppo lunghi e io breve non sono stato. Sappiate che non potrei mai immaginare la mia vita senza di voi e se mi fosse data la possibilità di scegliere, avrei scelto ancora di crescere al vostro fianco. Sono contento che domani il sole spunterà ancora. Famiglia mia, fratelli miei, amici miei e amore mio, vi sono vicino e se mi è concesso veglierò su di voi. Vi voglio bene. P.S. State tranquilli. Tutto questo è solo sono a retransi. Aretrato. Bene, grazie Maria. Eccolo qua, Sammy. Un caro saluto a tutti voi e arrivederci ai nostri prossimi video. Grazie. Grazie.